Non sarà una Pasqua felice per i 39 lavoratori della SK Inix di Agratebrianza, centro di ricerca e sviluppo europeo del colosso coreano specializzato nella produzione di chip per memorie. L'azienda ha comunicato la messa in liquidazione e la chiusura della filiale e la procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. La motivazione fornita dall'azienda, spiega la CGL, è quella di un divario tecnologico tra la società italiana e la casa madre coreana e l'impercorribilità di un trasferimento di tecnologia determinato dalla necessità di ingenti investimenti e dei divieti della normativa nazionale coreana. Il sindacato ricorda come si attiva una joint venture tra Intel e SK Inix proprio sulla tecnologia delle memorie NAND, quelle finora sviluppate ad Agrate, e che è in via di implementazione a un centro di ricerca a Roma, attualmente di proprietà di Intel ma che sarà ceduto a SK Inix nel corso del 2025. Il centro di ricerca italiano ha sempre raggiunto gli obiettivi e sviluppato i prodotti conseguendo i migliori risultati, ricorda la Filcams CGL Monza e Brianza. Inoltre SK Inix è il secondo colosso mondiale dei semiconduttori con un fatturato nel 2022 di 34 miliardi di dollari e un utile netto di 1,7 miliardi. Nelle prossime ore, dice la CGL, attiveremo le richieste d'incontro alle istituzioni e con l'azienda che richiamiamo alla responsabilità sociale e ad adoperarsi per ogni soluzione di tutela dei livelli occupazionali. L'obiettivo del percorso sindacale che intraprendiamo è quello di tutelare l'occupazione e mantenere le competenze di eccellenza nel territorio, stimolando su questo tema l'impegno attivo delle istituzioni e il coinvolgimento delle aziende importanti e strategiche del settore presenti in Brianza che possono svolgere un ruolo risolutivo acquisendo le professionalità coinvolte.